Ciao ragazzi, allora che cosa è successo? Dopo 5 mesi quasi sono finalmente tornato in servizio è già un mesetto che sono di nuovo a bordo delle corriere ho coperto un po' di turni ferie dei colleghi in questo periodo stavo coprendo un turno ferie di 2 settimane in alta montagna stavo preparando un video sul mezzo che ho in dotazione in questi giorni ovvero un Beulass Midistar un minibus di quasi 9 metri, cambio manuale, meccanica man nel frattempo però come avete letto sui giornali di questi giorni gli acquazzoni in Carnia sono stati particolarmente violenti sabato sera stavo filmando l'ultima corsa e per caso ho ripreso un acquazzone particolarmente forte poi domenica ero a casa, il mezzo era fermo ed è scesa una frana importante su questa strada che è stata chiusa qualche ora ma è stata prontamente ripulita in video vi mostro la pioggia del sabato sera la strada come l'ho trovata lunedì mattina con ancora gli ultimi residui con il materiale spostato dalla frana a cui poi aggiungo una chicca lunedì stavo facendo la mia terza corsa stavo scendendo purtroppo non ho il filmato ma in un tratto della strada di cui vi metterò solamente un fermo immagine preso da uno degli altri filmati ho notato che stava scendendo un polverone ovviamente chi di dovere si era già accorto stava già monitorando la situazione per sicurezza hanno scelto di chiudere la strada poiché c'è una massa franosa instabile che devono provvedere a tirar giù nel frattempo tutte le corse partono in discesa con 20 minuti di anticipo poiché devo deviare per il passo pura su cui tra l'altro ci sono dei lavori in corso lo stesso passo su cui si svolge il rally valli della Carnia che mi sarebbe piaciuto correre prima o poi ma non con la corriera per cui l'ultimo pezzo del filmato riguarda un po' di passaggi carini sulla diga, sul passo di montagna sulla discesa, sulle macchine che si incrociano sugli operai, sugli autotreni che stanno ancora rimuovendo i tronchi di Vaya godetevi questo filmato che ho avuto casualmente la fortuna di riprendere godetevi questo filmato fortuito poiché mostra veramente tante cose godetevi questo filmato ci saranno dei passaggi veramente belli al prossimo video dedicato al Beulas Midistar e alle strade di montagna ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.